Qualche giorno fa in Corso Cavour si è sollevata la questione degli odori, diciamo, molesti di alcuni locali fast food. Ecco, io mi riferisco alla puzza di fritto che c'è in Corso Cavour, che è la strada principale della nostra città ed è, diciamo, il salotto buono della città. Sarà anche il salotto buono della città, ma non sembra esserci proprio pace per Corso Cavour, una delle strade principali dello shopping del centro storico del capoluogo. Dopo le polemiche dei mesi scorsi sullo stop al passaggio degli autobus lungo la via, ecco un nuovo argomento di scontro, il cattivo odore che sembrerebbe fuoriuscire da alcune attività commerciali, anche se il riferimento implicito è ad un esercizio aperto da pochi mesi. Senza nulla togliere i commercianti che hanno diritto anche loro a fare il loro lavoro. Ci vorrebbe un'attenzione in realtà da parte dell'amministrazione che preveda che almeno nelle nostre strade principali non ci siano questi odori. Allora, è vero che tutti hanno diritto di lavorare e che il commercio ormai è globalizzato, ma bisogna anche fare attenzione perché Pavia è una città bella, è una città turistica. E non credo che quando un turista passa da Corso Cavour e senta gli odori di patatini fritte, di fritto misto, che esce da quei locali enormi e giganti, siano contenti. Penso proprio che in altre città d'arte come Pavia è, non ci siano queste cose e quindi un'attenzione da parte dell'amministrazione dovrebbe esserci. Non c'è stata. Insomma, se non è guerra aperta, poco ci manca perché il decoro di una delle vie più belle del centro storico passa anche da questioni olfattive, secondo la consigliera di opposizione. Cosa si può fare? Multe, solleciti ai ristoranti? Come si può intervenire? Io non lo so se ci sono delle regole, nel senso che non so se le cappe di aspirazione, per esempio, siano sufficienti oppure se bisognerebbe metterne di più potenti per non avere l'odore in Corso Cavour. Il fatto sta che l'odore c'è e quindi la gente si lamenta e chi passa si allontana dall'altra parte del marciapiede per evitare che il puzzo gli venga addosso. E una città come Pavia non se lo merita.